Un'immagine da Sassari, la terrazza di Palazzo Ducale con lo sfondo della città vecchia e la location scelta per ambientare l'avvio della promozione della terza edizione di Promo Autunno, l'appuntamento fioristico del nord Sardegna in programma ad ottobre. Cinque modelli hanno posato vestiti con i costumi tradizionali di Ittiri, Osir, Osennori, Ploage e Tissi per realizzare un book fotografico. Per l'ideatore della fiera Claudio Rotunno la campagna pubblicitaria incarna lo spirito dell'iniziativa dove bellezza e tradizione sono le basi per il rilancio di un territorio con grandi potenzialità. Promo Autunno nella scorsa edizione ha fatto registrare 75.000 presenze nell'arco di tre giorni allestiti negli spazi di Promo Camera.